GENTILI TELESPETTATORI Grazie, buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Arca è un progetto interamente ideato in Trentino, un progetto innovativo che riguarda la certificazione di qualità degli edifici in legno. E questo è l'argomento di questa puntata. Allora, Mauro Casotto, vogliamo entrare nel merito. Ne abbiamo parlato anche con l'assessore Olivi, un settore un po' in crisi quello dell'edilizia, ma ci sono nuove prospettive, soprattutto attraverso un materiale tipicamente trentino come il legno. Vogliamo ricordare allora che cos'è questo acronimo, Arca? Arca è un acronimo che sta per Architettura Comfort Ambiente. È un progetto di sistema fortemente voluto dalla provincia autonoma di Trento e attuato in particolare dalla nostra società da Trentino Sviluppo per valorizzare tutto quello che è la filiera dell'edilizia in legno. Il progetto Arca si inserisce quindi pienamente nel filone dell'edilizia sostenibile che è stato avviato alcuni anni fa con la nascita del distretto tecnologico trentino, dell'adozione dei criteri LEED che adesso, vediamo, sono stati utilizzati, vengono utilizzati comunemente anche in particolare negli edifici pubblici. Il progetto Arca va anche a recuperare tutta quell'attività di ricerca e sviluppo che è stata portata avanti in provincia autonoma di Trento dagli istituti Valsa con il progetto appunto cosiddetto Sofì. L'obiettivo di Arca, del progetto Arca, è quindi quello di fare filiera partendo dal bosco alla prima lavorazione, alla seconda lavorazione per edificare, per costruire degli edifici in legno. L'obiettivo del progetto Arca è anche quello di cercare di coniugare, di valorizzare al contempo tutti i sistemi costruttivi in legno che sono il telaio, che sono il pannello, tipo appunto quello che dicevo prima, il pannello Islam e Sofì e le metodologie miste. Il tutto alla base ha questo sistema di certificazione che dovrebbe quindi garantire, che vuole garantire, che gli edifici hanno certe caratteristiche prestazionali molto elevate in termini di antisesmicità, come poi cederà l'ingegnere Minapace, in termini di antisesmicità, resistenza al fuoco, resistenza all'aria. E questo, tra il resto, è una garanzia ulteriore per il committente finale, sia che il committente finale sia Mauro Casotto, il cittadino, quanto piuttosto un ente pubblico e soggetti che fanno anche ovviamente edifici che vanno ben oltre la casetta del privato cittadino. Certo, lo ricordiamo allora. Mauro Casotto, oltre che cittadino, è anche amministratore unico da poco tempo di Arca SRL, oltre che vice direttore generale di Trentino Sviluppo. Si tratta di un ambarchio, lo abbiamo detto. Ci sono anche alcune caratteristiche tecniche che vedremo poi meglio con l'ingegnere Minapace. Quante aziende trentine finora hanno aderito a questo progetto? Le aziende trentine che finora hanno aderito al progetto sono 32. Sono aziende sia che costruiscono in legno ed esclusivamente in legno, sia aziende, spesso di maggiori dimensioni, che costruiscono sia nel modo tradizionale, con l'edilizia tradizionale, quindi in cemento, ma che coniugano il cemento anche con l'edilizia in legno. Bene, allora passiamo la parola all'ingegnere Stefano Menapace, che è esperto di costruzioni in legno, incaricato da Trentino Sviluppo di coordinare la stesura del regolamento tecnico di Arca. Allora, ingegnere, quali sono le regole del gioco? Possiamo chiamarle così? Sì, direi di sì. Per redigere questo regolamento tecnico su cui si basa la certificazione Arca, abbiamo chiesto ad esperti del mondo tecnico e del mondo scientifico, che abbiamo riunito in due comitati, Comitato Tecnico e Comitato Scientifico, di redigere queste regole, in modo tale, diciamo, di codificare un certo tipo di qualità. Direi in breve che abbiamo dei prerequisiti, vale a dire delle regole base, che devono essere seguite per freggiarsi di questa certificazione, quindi per garantire questo tipo di edificio che rispetti queste regole. Abbiamo poi una serie di crediti, che sono, come dire, degli optional, che permettono all'edificio di raggiungere dei livelli sempre più alti, in termini di qualità e di performance dell'edificio. Abbiamo, come è stato detto, scelto una serie di caratteristiche, quindi parliamo di edifici antisismici, resistenti al fuoco, che hanno delle ottime performance energetiche, quindi di risparmio energetico, isolamento acustico ed altre, ed altre. E una serie di criteri che abbiamo suddiviso in tre categorie, quella delle prestazioni tecniche, della gestione dell'edificio, e infine dell'edilizia sostenibile, perché come è stato introdotto precedentemente, parliamo comunque di un filone molto importante in cui l'edificio in legno si inserisce in maniera molto caratterizzante, vale a dire l'edilizia sostenibile. Ci sono dei pregiudizi, purtroppo, sull'edilizia in legno, ne parleremo diffusamente dopo, per intanto ci vediamo un'intervista con un progettista e un imprenditore che hanno deciso di scommettere in questo settore. Può partire il contributo filmato. Quando si parla la prima volta col committente di introdurre questo tipo di struttura, certo c'è molta perplessità, perché il legno è visto ancora come un materiale che viene impiegato soprattutto in agricoltura, in montagna, ma non certo per un'abitazione stabile. La perplessità maggiore riguarda, secondo me, la durata, non tanto la resistenza al fuoco, perché quella è forse un po' meno, ma la durata nel tempo del manufatto. Il primo intervento che noi facciamo sul committente quando proponiamo una struttura di questo tipo è appunto quello di rassicurarlo sull'alta qualità e solidità della struttura. Sicuramente paragonabile a quelle normali e forse in certi casi anche maggiore di quelle dell'edilizia tradizionale. Un'altra perplessità è data dalla necessità, credono i committenti, che ci sia bisogno di una manutenzione maggiore rispetto all'edificio normale. Ecco, qui spieghiamo le cose, dipende ovviamente da che tipo di struttura si sceglie, da come si fa. Sono tutte obiezioni però che si superano facilmente quando si fanno vedere i pregi invece della struttura. Un'altra delle perplessità di qualche committente è data la particolare infiammabilità del materiale legno rispetto ad altri materiali più tradizionali quali mattone o il cemento armato è la resistenza al fuoco. Normalmente in edilizia si parla di RR60, è la resistenza che una struttura ha prima del crollo ed è questa che importa per la sicurezza dell'edificio. Cioè quel tempo che passa prima che la struttura, che l'edificio collassi e quindi non ci sia più la possibilità per i vigili del fuoco di mettere in salvo le persone che si trovano all'interno dell'edificio. E qui devo dire che rispetto ad altri materiali tradizionali quali l'acciaio o il cemento, il legno è il materiale che si comporta meglio perché sottoposto ad alte temperature l'acciaio collassa, diciamo che per parlare in parole semplici, si scioglie in tempi molto brevi e il cemento ha dei collassi immediati, cioè è come se scoppiasse dall'interno mentre il legno si brucia ma brucia lentamente e nell'arco dell'ora brucia al massimo di 5 cm rispetto a quella che è la struttura portante e quindi nel materiale legno diciamo che è il materiale che più resiste nel tempo prima del collasso e quindi c'è il tempo per i vigili del fuoco di venire, spegnere l'incendio ed evacuare l'edificio. Lo abbiamo sentito con le testimonianze dell'architetto Giovannazzi in particolare dell'architetto Perini, la seconda che abbiamo ascoltato quali sono state di recente le cose che hanno frenato un po' lo sviluppo i pregiudizi che hanno frenato lo sviluppo dell'architettura in legno almeno alle nostre latitudini. Vorrei chiedere all'ingegnere Menapace, ce ne sono altri di pregiudizi da sfatare forse in termini di costi, le case in legno sono davvero competitive? Lo sono chiaramente se paragonate allo stesso livello di performance che raggiungono quindi se noi parliamo di un edificio pressoché passivo che può essere un edificio certificato ARCA paragonato ad un edificio tradizionale i costi sono assolutamente paragonabili. Ci sono un'altra serie di vantaggi e non da ultimo partendo anzi da questo è il fatto di avere dei costi certi perché grazie a tutto il processo che sta prima del cantiere di produzione degli elementi si è in grado di avere tempi e costi certi questo per esempio è molto importante in alcuni settori come quello del turismo dove si riesce a guadagnare anche una stagione questo sui costi sicuramente e anche i costi, i costi di certificazione si è lavorato molto con i comitati con gli organismi di certificazione anche grazie alla sperimentazione che è stata fatta su 10 edifici trentini si è riuscito a lavorare su quello che è il costo di certificazione riuscendo a tenerlo estremamente contenuto chiaramente su edifici piccoli c'è una percentuale maggiore che può arrivare attorno all'1,5-2% del valore del costruito ma altrimenti poi cala notevolmente quindi tutto questo costo aggiuntivo viene poi ripagato perché uno ha un edificio certificato ha un edificio garantito come dire quando compro una macchina so tutto di questa macchina motore, prestazione, non solo colore anche di questi edifici Arca io so tutto perché sono oggigiorno dei prodotti complessi questi tipi di edifici tutti i tipi di edifici e nel caso degli edifici di legno con Arca uno ha un libretto dell'edificio che gli dice non solo qual è il colore quali sono le finiture ma anche quali sono proprio le caratteristiche quanto consuma quanto può reggere tutta una serie di caratteristiche che anche magari l'acquirente medio inizialmente non può ben conoscere e come è stato anche visto in interviste magari è anche difficile ogni tanto spiegare rompere dei pregiudizi qua li rompiamo con una certificazione con delle prove in opera a garanzia abbiamo dunque sfatato i pregiudizi sui costi sulla durata nel tempo e sulla resistenza al fuoco Mauro Casotto siamo però soltanto all'inizio si può fare molto di più lo abbiamo ricordato anche nell'ultima puntata con l'assessore provinciale all'industria e all'artigianato Alessandro Olivi quali saranno i prossimi passi del progetto Arca? I prossimi passi inizialmente saranno quelli di coinvolgere direttamente le aziende le 32 aziende che abbiamo prima citato per capire qual è la loro percezione del mercato per capire cosa ne pensano loro e cosa loro pensano che pensano i clienti finali i consumatori finali sotto un profilo tecnico i prossimi passi saranno quelli di completare i regolamenti le norme per quanto riguarda gli ampliamenti e le sopraelevazioni che come diceva l'ingegner Menapace in particolare nel settore turistico alberghiero daranno tempi certi e costi certi di realizzazione di ampliamenti per esempio per centri benessere o ampliamenti o sopraelevazioni degli alberghi procedere quindi con le regolamentazioni tecniche di alcune componenti essenziali dell'edificio a partire dai pannelli per procedere poi con le porte le finestre i pavimenti e le scale una grande opera di coinvolgimento sarà fatta anche con i professionisti l'abbiamo capito poco fa anche dall'architetto Giovanazzi è lui che propone al proprio committente la struttura in legno quindi anche su questo noi dovremo agire ed infine un ultimo aspetto l'abbiamo già affrontato accogliendo all'interno degli associati ad arca i costruttori chiamiamoli dell'edilizia tradizionale l'integrazione che ci sarà e può esserci tra legno acciaio vetro e cemento in termini appunto costruttivi anche per andare oltre a quello che diceva poco fa l'architetto Giovanazzi che la casa in legno è considerata la baita di montagna ecco questi sono i prossimi passi benissimo allora siamo in conclusione della nostra trasmissione abbiamo parlato di case in legno e certificazioni per il futuro sviluppo appunto di questo settore in Trentino e al di fuori dei nostri confini ringraziamo i nostri ospiti a cominciare dal dottor Casotto che è vice direttore generale di Trentino sviluppo e amministratore unico del progetto Arca SRL grazie all'ingegnere Stefano Menapace che invece è il coordinatore tecnico del regolamento del sistema di certificazione Arca grazie grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento è per la prossima puntata grazie a tutti